Questo video è offerto da Oggi in Piazza Duomo ad Augusta, così come sta avvenendo in varie regioni d'Italia, un flash mob organizzato dal movimento MISAC a sostegno del disegno di legge 236 del 2022 per la stabilizzazione e l'internalizzazione degli assistenti ASACOM che operano a supporto degli studenti con disabilità nelle scuole. Siamo in compagnia di Sebastiano Amenta, vicepresidente dell'associazione Augusta 20 novembre 1989. Insomma, perché questo flash mob anche ad Augusta? Voglio dire innanzitutto che è un flash mob a supporto del DDL 236 che si discute proprio in queste ore alle 15.30 al Senato. Questo serve a correggere il grave errore fatto nel 1982 quando con la legge 104 all'articolo 13 assegnava questo servizio fondamentale e importantissimo per gli alunni disabili agli enti locali che hanno terzializzato poi con le cooperative. Quindi sarebbe come dire un fiore all'occhiello avere sin dal primo giorno di scuola il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili. Anche perché sappiamo che oggi molti comuni sono in default quindi sono stati anche negli anni scorsi comuni a zero oro dove i bambini sono stati negati da un diritto fondamentale che è il diritto dell'assistenza specialistica. Entrando nel merito del tema, si parla di internalizzazione e stabilizzazione degli assistenti ASACOM. Perché è importante avere questo personale all'interno dello Stato? È importante perché sin dal primo giorno di scuola non ci sarà nessun disservizio perché come ho già detto dove ci sono comuni, per esempio lo scorso anno a Lentini sono stati bambini a zero ore perché il comune aveva le casse vuote. Idem vale per Floridia negli anni di commissariamento quindi questo grave e gravissimo non avere un servizio fondamentale non potrà più accadere perché sarà come l'insegnante di sostegno dal primo giorno di scuola il bambino potrà essere supportato. Ad Augusta che contezza ha per quanto riguarda questa assistenza? Ad Augusta problemi per quest'anno non ce ne sono stati a parte dello scorso anno quando abbiamo fatto un ricorso giudiziario perché le ore che assegnava il comune erano tre ore eque per tutti mettendo da parte il piano educativo individuale dove assegnava le ore ad hoc ad ogni bambino.